Tu sei il vero tra la gloria e il vero è il frutto del senso di Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad essi segnali della nostra morte, amè. Leggita della pace, prega per noi, prega per gli infermi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per le sante missioni, prega per noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 fermi immobili a posto e viva e viva e viva e viva grazie 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 a tutti i volontari che non solo in queste circostanze ma anche in altre circostanze della vita di Villabruna e dei nostri paesi si attivano grazie di cuore grazie 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 a tutti.